Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura la cronaca ha infatti toccato anche la provincia di Arezzo l'operazione dei finanzieri di Reggio Calabria che ha portato alla confisca di beni per 700.000 euro ad un imprenditore reggino. Ha toccato anche le campagne aretine il maxisequestro schettato nelle ultime ore ed eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e dello Scico di Roma con il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Si tratta di beni che vengono confiscati a quello che gli inquirenti considerano il re delle scommesse, un imprenditore di 58 anni originario di Gioia Tauro con radicati interessi nell'aretino. La sua figura era già emersa nell'ambito dell'operazione Galassia che nel 2018 portò a 20 arresti sgominando un sofisticato ed altamente remunerativo sistema criminale finalizzato alla raccolta illecita di scommesse online. Da qui l'indagine di carattere economico patrimoniale finalizzata all'applicazione nei confronti dell'imprenditore di misure di prevenzione personali e patrimoniali. Quindi la misura è stata disposta per un patrimonio dal valore complessivamente stimato in circa 700.000 euro. Si tratta dell'intero compendio aziendale di una ditta individuale e due società, tutte operanti nel settore della gestione e manutenzione degli apparecchi da gioco, nonché di 15 terreni che si trovano in provincia di Arezzo. Un incidente nella notte a Pieve Santo Stefano lungo la provinciale 50, torna all'una nel quale è rimasta coinvolta un'auto. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza, l'automedica, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine Pegaso. Nell'impatto è rimasto ferito un uomo di 35 anni, trasportato in codice 2 alla pronto soccorso degli scotte di Siena. A terra nuova a Bracciolini invece l'amministrazione comunale ha lanciato il nuovo progetto di co-housing presso l'appartamento delle ville confiscato alla mafia e da adesso ribattezzato Residenza Nencioni. A partire dai primi giorni di agosto la residenza sarà così disponibile nuovamente per la comunità locale. Le modalità di accesso sono state progettate per garantire che l'iniziativa possa effettivamente sostenere i cittadini più bisognosi in emergenza abitativa. Dopo la compilazione del modulo si passerà ad un colloquio con l'assistente sociale. D'oltre alla caparra di 100 euro verranno chieste delle quote di compartecipazione mensile con l'obiettivo anche di responsabilizzare i nuovi abitanti dell'immobile. E adesso voltiamo pagina per parlare di sanità. Presentato questa mattina il completamento dell'area Open Space per l'alta e intermedia intensità del pronto soccorso del Sandonato di Arezzo che raddoppia adesso la sua capienza. Dottor Zanobetti che cosa cambia? Immagino che il cambiamento sia notevole sotto il profilo anche della capacità del pronto soccorso. Si cambia perché pur lavorando sui soliti metri quadri questa riorganizzazione logistica è diventata una riorganizzazione funzionale perché abbiamo diviso le aree ad alta e intermedia intensità che è quella dove ci troviamo con le aree a bassa intensità e le relativi stanze per aspettare ai pazienti. In questa zona qui che è diventato un Open Space abbiamo praticamente recuperato 8 posti letto, diciamo 8 posti di visita. Prima ne erano solo 8, noi ne abbiamo 16, quindi un raddoppio con gli stessi spazi dei posti di visita. Ma la cosa più importante è che ognuno di questi posti letto è dotato di una dotazione tale per cui noi qui possiamo gestire pazienti che vanno dai codici 3, quindi di moderata intensità, fino ai codici 1 che sono le vere e proprie emergenze. perché ogni postazione ha le caratteristiche per poter gestire un certo tipo di emergenza. Direttore, che investimento è stato per l'azienda e poi comunque ci sarà l'inaugurazione definitiva di questo nuovo pronto soccorso in autunno? Sì, volevamo mostrare alla città l'avanzamento dei lavori sul pronto soccorso e su tutta l'area critica del nostro ospedale San Donato. Si tratta di un investimento importante di circa 3 milioni di euro da fondi nazionali, il cosiddetto DL34, a cui si aggiungono al momento 600 mila euro di ASL Toscana Sud-Est da bilancio perché crediamo che questo pronto soccorso sia essenziale nella rete ospedaliera della Sud-Est e per tutta la provincia di Arezzo. Questo è il motivo per cui costituisce oggetto di finanziamento e di investimento, non solo in termini di risorse economiche ma anche in termini di risorse umane per quello che è possibile vista la carenza di medici, soprattutto nell'area dell'emergenza. Ecco, l'ha toccato da sé questo punto. Insomma, c'è stato tra l'altro anche un incontro proprio con i sindacati recente in prefettura. Sotto questo profilo cosa si può fare? Il confronto immagino che sia sempre attivo. Il confronto è sempre aperto, è chiaro che in questo momento viviamo una condizione di maggiore difficoltà per il godimento delle ferie e perché nonostante quello che si possa immaginare la pressione negli ospedali subisce poco le modifiche climatiche e poi anche quando le subisse abbiamo sempre il movimento dei turisti che è da tenere in considerazione, che è un settore che va presidiato. Il confronto è aperto, le assunzioni ci sono, è chiaro che qualche volta andiamo un po' sotto rispetto allo standard ma questo è legato non tanto alla volontà dell'azienda quanto alle dinamiche tra la cessazione dagli incarichi e l'immissione di nuovi professionisti ma è fisiologico in un'azienda di queste dimensioni. Positivo l'incontro tra l'assessorato regionale alla sanità e le confederazioni TGL CISL e UIL è stato infatti garantito lo stop ai tagli che erano stati annunciati dall'azienda sanitaria al CUP e ai servizi front office. Positivo l'incontro tra l'assessorato regionale alla sanità e le confederazioni TGL CISL e UIL è stato garantito lo stop ai tagli che erano stati annunciati dalla ASL Toscana Sud-Est al CUP e ai servizi front office. L'incontro era stato richiesto dalle organizzazioni sindacali confederali infatti era presente il nostro segretario reggente Mattia Pirulli con i segretari del regionale di funzione pubblica FISL, scatti insieme a quelli di CGL e UIL ed era appunto partita la richiesta proprio per il problema della fuga in avanti fatta dall'ASL Sud-Est rispetto al taglio del front office CUP che noi abbiamo sempre detto assolutamente non ricevibile come organizzazione sindacale nel merito ma anche nel metodo perché non c'era stato confronto con le organizzazioni sindacali. L'allarme era scattato all'inizio dell'anno quando erano circolate le prime voci di possibili tagli il servizio CUP front office è affidato in appalto a soggetti esterni, in questo caso cooperative e l'azienda sanitaria aveva annunciato la decisione di ridurre i servizi e quindi anche la quantità di ore lavorate di pochi giorni fa era infatti l'appello di una lavoratrice al presidente della regione toscana Eugenio Giani Mi chiamo Stefania, lavoro in appalto al CUP dell'ospedale di Arezzo lavoro lì da più di vent'anni, passando da un appalto ad un altro sempre nell'incertezza delle condizioni di lavoro ma continuando sempre insieme ai miei colleghi a svolgere al meglio questo servizio che riteniamo fondamentale per la cittadinanza Alcuni di noi perderanno il posto di lavoro? Siamo davvero un servizio che non serve al cittadino? L'esito dell'incontro delle scorse ore in regione blocca la riduzione dei servizi che avrebbe dovuto scattare proprio dal primo di agosto e rinvia la trattativa al mese di settembre Per noi il front office è un elemento di prima accoglienza dei cittadini abbiamo sempre pensato che la reinternalizzazione di questo servizio fosse un elemento importante da valutare ieri c'è stata un'apertura e una proposta della regione da parte dell'assessorato alla sanità, quindi dell'assessore Bezzini fatta alle organizzazioni sindacali regionali in cui si parla appunto di reinternalizzazione del front office e questo è un elemento importante, ancora tutto da valutare è una notizia arrivata ieri però importante anche se soltanto fosse un primo riferimento un primo, come dire, una prima appunto apertura come ho detto rispetto ad una questione che come CISL abbiamo sempre ritenuto fondamentale perché fondamentale è il lavoro di queste persone e riportarlo all'interno delle aziende sanitarie nelle giuste modalità è molto corretto tutelando ovviamente il lavoro di tutti questi ragazzi di tutte queste persone che da tanto tempo si occupano di accogliere i cittadini e adesso l'appello lanciato da Avis Toscana che invita i cittadini a non dimenticarsi di donare il sangue e il plasma prima di partire per le ferie prima di andare in vacanza donate è l'appello lanciato da Avis Toscana che invita i cittadini a non dimenticarsi di donare sangue e plasma prima di partire per le ferie seguendo anche l'esempio di tanti sindaci e amministratori locali in estate molti donatori abituali spesso non possono donare per viaggi programmati spiega la presidente di Avis Toscana Claudia Firenze il caldo estivo può portare ad un aumento dei casi di disidratazione il flusso di turisti può richiedere scorte maggiori sufficienti per aiutare i pazienti cronici e per far fronte alle emergenze sanitarie per questo è importante che chiunque sia in salute e abbia i requisiti per farlo doni il sangue è un gesto semplice ma che salva vite non ci stancheremo mai di ripeterlo la donazione estiva però ha le sue piccole regole restare ben idratati prima e dopo la donazione soprattutto nelle giornate calde evitare alimenti grassi e zuccherati che possono causare debolezza o ipoglicemia riposare bene la notte precedente e cercare di non avere impegni pressanti subito dopo la donazione a Castiglion Fiorentino all'indomani della raccolta firme portata avanti tra le altre dall'associazione toscana genitori bambini cardiopatici cuore di bimbo l'amministrazione ha presentato durante l'ultimo consiglio comunale la derivera che sollecita la regione toscana affinché adotti delle iniziative per migliorare l'assistenza pediatrica per le famiglie della comunità l'obiettivo infatti è quello di realizzare un maggior coordinamento tra il Meyer e gli altri presidi pediatrici in modo da risolvere il problema delle lunghe liste d'attesa verso l'ospedale pediatrico regionale e restiamo in Valdichiana ma per parlare di politica Antonio Rauti è infatti il nuovo commissario della sezione Cortona Foiano della Chiana Lega Salvini Premier la Lega da parte del segretario provinciale Vecchi è arrivata in queste ore e adesso Rauti succede Marco Casucci Adesso invece ci spostiamo in Valdarno per parlare di sicurezza idraulica sono infatti previsti interventi dal Fondovalle all'area collinare in tutto 150 km di tratti per una spesa di oltre 1.200.000 euro dal 1 luglio è infatti scattata l'operazione Fiumi più sicuri la maxiattività di prevenzione realizzata annualmente dal Consorzio di Bonifica a 2 alto val d'Arno per il controllo della vegetazione la risagomatura delle sponde e il ripristino delle opere idrauliche con il contributo versato dai consorziati protagonista come sempre sarà l'Arno con i suoi 13 km interessati dalle operazioni e adesso torniamo in città arriva un'iniziativa per promuovere l'uso combinato del trasporto pubblico e dello sharing mobility per la mobilità sempre più sostenibile ed integrata grazie all'accesso ai fondi di regione toscana gli abbonati ad Autolinea Toscana potranno ora usufruire della passa Tierdot gratuiti facilitando così gli spostamenti in città con mezzi alternativi all'auto privata nello specifico verrà messo a disposizione un passa mensile del valore di 120 euro che possessori maggiorenni di un abbonamento mensile, trimestrale o annuale emesso da Autolinea Toscana può richiedere ogni 30 giorni in base ai mesi residui dell'abbonamento stesso e nelle ultime ore invece in città si era accesa una polemica che riguardava il costo dei biglietti per la fortezza a chiarire adesso è la stessa fondazione I prezzi sono cambiati solo per questo periodo in cui c'è un'esposizione in corso poi i residenti del comune di Arezzo torneranno ad entrare gratuitamente così Lorenzo Cinatti direttore della fondazione Guido d'Arezzo fa chiarezza sul tema delle tariffe di accesso alla fortezza medicia dopo che c'erano state alcune polemiche in seguito ad un post sui canali social della stessa fondazione fino al 23 di agosto i visitatori potranno godere anche di Willow perso nel giallo del vento una mostra di arte contemporanea curata da Fabio Migliorati a questo si deve il cambiamento dei prezzi annunciato appunto sulle pagine social della fondazione sul loro sito in realtà è entrato in vigore a fine giugno quando l'esposizione è partita in occasione di mostre come per gli anni passati l'ingresso alla fortezza è a pagamento 8 euro intero, 4 i ridotti una volta terminata la mostra e in assenza di ulteriori eventi l'accesso in fortezza tornerà gratuito per tutti i residenti nel comune di Arezzo un'azienda retina sarà protagonista della WorldSkill Competition il più grande evento al mondo dedicato alle capacità professionali la manifestazione a cadenza biennale in programma da martedì 10 a domenica 15 settembre a Lione vedrà la partecipazione anche di Saima Meccanica che è stata selezionata per progettare e realizzare le cabine che verranno utilizzate nella gara di data di verniciatura e decorazione delle auto e ha toccato invece a Arezzo la staffetta della pace dei Lions d'Italia una marcia in 43 tappe partita dalle Dolomiti per arrivare a Roma percorrendo la via Romea Germanica attraversando 5 legioni e coinvolgendo vari Lions Club la staffetta arriverà il 1 agosto a Chiusi della Verna per ripartire il 2 verso Chitignano poi Subbiano Castiglion Fiorentino Cortone il 6 agosto poi la 7 d'Arezzo a Castiglion Fiorentino l'arrivo a Roma è previsto per il 12 settembre in ogni tappa i sindaci firmeranno la pergamena partecipativa del cammino che verrà consegnata a Papa Francesco in Vaticano a Monte San Savino invece gli ultimi due appuntamenti con il Monte San Savino Festival arriva alla domani un gala al ridico per celebrare i 100 anni dalla scomparsa di Puccini si avvia alla conclusione il Monte San Savino Festival e con esso anche le masterclass tenute da docenti di grande prestigio in questa seconda settimana il concerto finale dei corsi sarà dedicato alla lirica nel paese della Valdichiana sono infatti arrivati studenti anche dalla lontana Cina per perfezionare il loro canto assieme ai docenti faranno un omaggio a Puccini quest'anno il corso raddoppia quindi i corsi di canto e le masterclass sono due una tenuta da me una dal tenore Bruno Lazzaretti e abbiamo molti studenti che provengono dalla Cina che seguiranno questi corsi l'utenza degli studenti cinesi è un'utenza molto importante per il nostro paese per i nostri conservatori e i rapporti appunto tra i nostri paesi sono consolidati anche passano anche attraverso la musica quest'anno abbiamo la possibilità di fare faremo appunto il venerdì 2 agosto alle 21.15 nel chiostro del Palazzo Comunale un concerto di gala dove una parte del programma sostanziale sarà dedicata alle aree più celebri delle opere di Giacomo Puccini di cui ricorre il centenario della morte e quindi vi aspettiamo a questo concerto sicuri che l'impegno che i ragazzi stanno mettendo in questa esperienza la dedizione con la quale si stanno dedicando allo studio porterà un risultato che speriamo sarà di gradimento del pubblico e il festival ha coinvolto anche i più piccoli con Music Lab un laboratorio per strumenti ad arco dedicato ai giovanissimi che si è tenuto nell'ambito proprio del Monte San Savino Festival in collaborazione con la scuola di musica Cappetti La collaborazione sta andando benissimo noi appunto abbiamo questa scuola comunale che è un po' un'eccezione per il territorio e facciamo un lavoro sul territorio tutto l'anno partendo dall'infanzia fino a crescendo chiaramente e è bellissimo per i nostri allievi oltre a partecipare a questo laboratorio che noi facciamo e ringrazio Catherine Daniela Bruni che segue tutto l'anno il gruppo orchestra della scuola comunale e segue appunto questo laboratorio possono respirare questa aria magica anche dei livelli alti delle masterclass Quanti ragazzi avete? Siamo con i progetti perché abbiamo anche un coro della Cappetti un coro di voci bianchi e abbiamo circa 200 iscritti Il 3 agosto il concerto finale nel teatro Giardini Pensile alle 21 e 15 Trumpet Harmonies con la direzione di Andrea Lucchi Eseguiremo arrangiamenti per gruppo grande di trombe che ha detto così uno magari immagina che sia una cosa un po' bandistica in realtà e di tutt'altro livello molto raffinato e si suoneranno musiche di generi più vari praticamente suoneremo musiche di rota di morricone di piazzolla suoneremo qualcosa dei Quina quindi sarà una serata bella ricca di emozioni e soprattutto alla portata di tutti perché non è la musica classica magari che uno non è abituato a sentire sono musiche orecchiabili conosciute quindi sarò felice di prendere parte a questo bellissimo concerto Il 7 agosto Arezzo celebra il santo patrono della città a San Donato rituali religiosi ed eventi tradizionali si susseguiranno come da tradizione sin dalla vigilia appunto martedì 6 agosto con la cerimonia di offerta del cero in programma alle 21.15 poi tante iniziative collaterali organizzate in collaborazione con la fondazione Arezzo in Tour e il gran finale con lo spettacolo pirotecnico che illuminerà festa e la cielo della città a partire dalle 23 per l'occasione apertura straordinaria del percorso espositivo i colori della giostra mentre in programma anche la visita guidata sempre gratuita alla scoperta delle immagini di San Donato nel palazzo comunale e adesso la pagina dello sport l'Arezzo calcio femminile annuncia gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale della Coppa Italia femminile la squadra amaranto affronterà il Chievo Woman in una partita secca che si disputerà tra le mura amiche il prossimo 8 settembre la vincente di questa sfida avrà l'onore di confrontarsi con la Fiorentina nel turno successivo per quanto riguarda il basket invece Niccolo Buzzone completa l'organico della BC Servizi la prima squadra della scuola basket Arezzo impegnata nel campionato 2024-2025 di serie B classe 2002 cestista gioca nel ruolo di alla piccola e arriva proprio dalla serie cadetta dove reduce da un'ottima stagione disputata con la maglia della Pisaurum Pesaro questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci